Buonasera a tutti, stasera entriamo nel merito del nostro ciclo di seminari promossi dalla Regione Puglia, Laboratori dal Basso, a Mesagne, dalle Cambiente a Mesagne con il GAL Terra dei Messapi e il Lab Creation con il patrocinio anche della Camera di Commercio e del Consorzio di Gestione Torre Guaceto. Stasera parliamo di agricoltura, nello specifico abbiamo voluto chiamare il nostro incontro l'agricoltura del futuro tra maggiore competitività e sostenibilità. Oggi abbiamo un problema nell'affrontare questa grave crisi economica che ci sta colpendo, le strategie adottate nei vari settori economici risultano essere ancora un po' insufficienti. Quindi abbiamo bisogno di nuove idee, di nuove prospettive e soprattutto a livello locale. Però fondamentalmente dobbiamo andare a guardarci intorno, dobbiamo capire cosa c'è anche nel nostro territorio, fare attenzione su quello che già esiste e che non viene attenzionato sufficientemente e su quello che esiste a livello nazionale anche perché è bene prendere esempio da realtà vive e vegete dal punto di vista economico che danno lavoro, che danno risposte. Quindi oggi vogliamo parlare di agricoltura insieme ad Alessandro Leo che è il presidente di Libera Terra Puglia ed a Lucio Cavazzoni che è il presidente di Alcenero e Milizia. La prima un'azienda tutta pugliese che dà un sacco di lavoro a molte persone, produce dei prodotti di elevatissima qualità. La seconda un'azienda dell'Emilia Romagna, un'azienda che dà lavoro a migliaia di persone in questo caso, che produce ricchezza e che produce soprattutto entrambe le aziende lo fanno rispettando l'ambiente che è la cosa per cui noi ci spendiamo particolarmente. Quindi io non vado oltre, lascio subito la parola ad Alessandro Leo, al presidente Leo che ci esporrà le sue tesi, teorie e quant'altro e la sua esperienza soprattutto nel settore dell'agricoltura. Grazie Lo faccio già col microfono, più che tesi e teorie, al massimo ipotesi, impressioni. Che magari mi sento anche di condividere, visto insomma che qualcosa anche fuori dalla prima di questo intervento, di questi interventi è emersa. Mi sembra che alcune riflessioni siano anche corrette. Io mi limiterò, essendo anche del territorio molto più facilmente raggiungibile, anzi coinvolgibile, mi interroga ad alcune riflessioni e raccontare anche una storia che è quella del sistema, del progetto Libera Terra, che può essere anche adottato, spesso viene adottato come modello e come sistema in diversi territori del Mezzogiorno d'Italia e non solo, ultimamente non solo, che parte da realtà molto particolari, dal riutilizzo dei beni confiscati ma che poi fa agricoltura a tutti gli effetti. Innesta sui beni confiscati delle aziende agricole cooperative che fanno economia, producono, danno risposte in termini occupazionali e sono molto spesso aziende agricole all'avanguardia, moderne e soprattutto attente ad alcuni temi. Una riflessione per inquadrare il contesto in cui poi siamo, in cui ci sentiamo di operare. Credo che non si possa raccontare nulla in questo momento se non si racconta una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Il nome di questo periodo è molto chiaro, questo periodo si chiama crisi, non ha nessun altro nome. È una crisi in termini politici probabilmente, finanziari sicuramente, economici. È una crisi economica che coinvolge un modo di pensare liberista che oggi si trova a fare i conti con un problema importante che è quello della scarsità delle risorse e della sostenibilità. Cosa molto legata, guardate, all'agricoltura. La finitezza delle risorse e la sostenibilità con cui politiche agricole che hanno contribuito a questa crisi sono state insensibili ai valori di rispetto dell'ambiente, di rispetto dei beni comuni, di protezione delle risorse beni comuni, quelle risorse irriproducibili che dobbiamo assolutamente preservare e contenere, delle falde acquifere, un esempio su tutti, e della fertilità dei nostri suoli. Quindi una crisi che oltre ad essere economica è una crisi di valori e una crisi di impostazione. Ascoltiamo spesso, dalla crisi si esce producendo, dalla crisi si esce attraverso lo sviluppo, dalla crisi si esce aumentando i consumi. Personalmente credo che una riflessione comune debba essere fatta su un'ipotesi diversa, che dalla crisi si esce sì producendo con i consumi e tutto quanto, ma se pensiamo di uscire dalla crisi con lo stesso paradigma con cui l'abbiamo creata, allora davvero non ci ritroveremo punto e da capo. Questo soprattutto per quanto riguarda, non soprattutto, ma un pezzo importante di questa riflessione riguarda l'agricoltura, riguarda un'attenzione estrema che dobbiamo dare nei confronti delle risorse, ad una nuova prospettiva di vita comunitaria che deve essere legata non più ad un consumo forzato, ma probabilmente ad un concetto più ampio di sobrietà, di sostenibilità e di durabilità delle risorse. Noi facciamo biologico dall'inizio perché non è stata in primis una scelta di mercato, perché magari possiamo spuntare un prezzo, quando è vero che sia così, ma possiamo spuntare un prezzo migliore sui nostri prodotti, ma lo facciamo perché crediamo, e Lucio ce l'ha insegnato più di tutti, che non può esistere riscatto di quei terreni confiscati poi in particolare, ma riscatto anche di un'economia locale senza un'attenzione piena nei confronti delle risorse, piena nei confronti della terra, piena di rispetto nei confronti della salute, e della salubrità di tutta la comunità. Pensiamo allora che per uscire dalla crisi probabilmente, e anche per rilanciare un nuovo tipo di economia, probabilmente bisogna lanciare un nuovo tipo di paradigma. Torniamo sì allo sviluppo, torniamo sì ai consumi, però facciamolo con un nuovo modo di vedere le cose, una nuova attenzione nei confronti dell'ecosistema, dell'ambiente, della sostenibilità delle produzioni, della salubrità dei cibi, chiaramente delle comunità e dei territori. Un nuovo paradigma che si basa sicuramente sulla attenzione allo spreco, siamo statistiche che dicono che in questo momento siamo circa 7 miliardi e produciamo per 12 miliardi di persone, c'è una differenza di circa il 40% della produzione, che è un 40% che molto spesso è spreco, peraltro risorse mal distribuite sul pianeta. Quindi attenzione allo spreco, sviluppo e consumo sì, ma ridistribuzione delle risorse. una forte attenzione alla energia che si impiega in agricoltura, alle energie rinnovabili, trovando un'armonia fra agricoltura e spreco o impiego di energia. E qui una parentesi che non si può non aprire per richiuderla subito, perché tutti ne siamo a conoscenza, dello scempio che è stato fatto in nome delle energie rinnovabili in questo territorio. A Mesagne basta percorrere le vie che percorrevamo prima, tutti i giorni fra Mesagne e San Pietro Vernotico. Abbiamo visto in pochissimi anni uno stravolgimento del territorio, campi coltivati a vigna, campi coltivati a carciofi, che oggi sono un continuo fotovoltaico, che può essere a volte peraltro neppure attivo, neppure allacciato, per diversi problemi che interessano anche la magistratura e le procure. Di sicuro quello non può essere un modello di sviluppo vincente. E poi un nuovo paradigma che passa anche attraverso una nuova educazione dei cittadini. Davvero sembra scontato, ma dovremmo comprendere tutti che l'atto della produzione del cibo, l'atto dell'acquisto del cibo è davvero un atto politico. E che parlare di politiche alimentari, è davvero parlare di politiche in senso alto, perché io non vedo una divisione fra i settori che interessano fortemente le politiche alimentari. Non credo che parlare di cibo sia diverso da parlare di ambiente, agricoltura, educazione, industria, sviluppo, giustizia, beni culturali. Non vedo un limite, per cui quando si fa politica per il cibo, quando si educa al cibo e si educa all'agricoltura, e si fa politica per l'agricoltura, si fa davvero politica per tutti e si fa davvero una politica per il bene comune. Su queste cose dovremmo portare a riflettere i cittadini, facendogli comprendere che la qualità del cibo e la salubrità che dal cibo deve provenire, deve essere considerato un diritto che tutti devono assolutamente esigere, che devono imparare a pretendere. In tutto questo scenario probabilmente bisogna prendere una decisione, dobbiamo decidere se davvero l'agricoltura deve tornare al centro dell'agenda politica, se l'agricoltura può essere importante per questo paese che ha milioni di piccole aziende agricole, che è un paese che ha il biologico fra i suoi vanti, molto spesso biologico vero, a volte biologico falso, ma il biologico vero è il biologico dei più piccoli, un paese che basa la sua ricchezza sotto gli occhi di tutti. La più grande green economy che ci possa essere è quella che davvero è sotto i nostri occhi, è l'agricoltura sostenibile, quella delle biodiversità, di razze animali differenti, varietà vegetali spontanee, domestiche, di prodotti tipici, di sementi, di culture e culture, di metodi e di pratiche agricole tradizionali. Questa è la ricchezza di questo paese. Per cui sarebbe bello una volta tanto sentire parlare non più di agricoltura in crisi, ma di agricoltura come strumento, come metodo per uscire dalla crisi. Certo, io credo che per adottare delle politiche che rivedano questo paradigma e che quindi debbano essere politiche comunitarie, politiche più ampie, nonostante qualcosa si possa fare anche a livello locale, io ne sono sicuro, per attuare delle politiche che incentivino anche, che preferiscano magari la piccola scala, il piccolo agricoltore, che molto spesso è quello che è più attento ai giardini del territorio, intendendo per giardini quelle campagne curate, anche perdendoci dei soldi a volte. Tornare a fare attenzione su queste piccole realtà che hanno un'aderenza più stretta con il territorio e non invece privilegiando o comunque mettendo alla pari grandi industrie agroalimentari che guardano l'agricoltura come modalità intensiva di sfruttare la terra, che non guardano la terra come essere vivente, che intendono la terra come commodity, qualcosa di scontato o come una grande catena di montaggio, per far questo sicuramente ci vuole una scelta politica molto forte sulla sostenibilità e sulla durabilità dei nostri beni. Io ritengo che però ci voglia un altro ingrediente importante, se ne ragionava prima, credo che ci sia bisogno di far ritornare l'agricoltura quel mestiere socialmente, non solo accettato, ma socialmente qualificante, economicamente qualificante. L'agricoltura come quel settore di cui non più vergognarsi, l'epoca del vai a zappare la terra se non studi, ecco, credo sia finita da un pezzo. Se facciamo caso ad alcuni elementi, se facciamo caso al fatto che ci sono storie, molto spesso non raccontate, di una nuova generazione che vuole fare agricoltura. Ecco, e questo è il punto, cercare di far diventare queste cose realtà con l'innesto di nuove energie che non possono che provenire dai giovani. Ed è un fatto conclamato il fatto che l'agricoltura sia, ormai abbia le rughe, ormai le mani dell'agricoltura siano vecchie. E da un agricoltore, lo vediamo qui su territorio, da un agricoltore che ormai ha un'esperienza pregressa, molto radicata, ha dei metodi culturali molto, che guardano molto al passato, ha anche un livello di disillusione e sconforto che ormai supera qualsiasi tipo di entusiasmo. Beh, da questi agricoltori ci possiamo aspettare poco in termini di spinta verso il futuro. Allora, se pensiamo che la disoccupazione giovanile oggi credo che sia al 36-37%, e che contemporaneamente l'agricoltura è il settore che è forse uno dei fra i più trainanti dal punto di vista della ricerca di occupazione. Si parla di una crescita del 6-7%, arriverà anche a due cifre, e il 4% è l'aumento delle nuove imprese agricole giovanili. Beh, allora, sembrerebbe quasi scontato un 2 più 2 il fatto che c'è occupazione, c'è richiesta di occupazione in quel settore e i giovani disoccupati possono, o anche, non soltanto giovani disoccupati, possono reinventarsi o inventarsi agricoltori. Purtroppo non è così perché, ed è questo credo che debba essere una richiesta forte alla politica, per via di un retaggio culturale molto forte rispetto al mestiere agricolo, per via di un retaggio culturale che è sostenuto da condizioni economiche assolutamente sfavorevoli, non ci sono veri e propri incentivi all'ingresso di giovani agricoltori, di giovani nell'ambito dell'agricoltura, non ci sono veri e propri strumenti o veri e propri piani. Cosa che, per esempio, viene fatta negli Stati Uniti, viene fatta in Francia, viene fatta in Giappone con incentivi che portano alla nascita di nuove realtà agricole su dei terreni. E se la difficoltà può essere quella, non credo che sia però una grande difficoltà in questo momento di abbandono dei terreni, quella di trovare dei terreni da coltivare, forse la difficoltà più grande è poi il non avere una direzione ed un'agevolazione dal punto di vista degli iter burocratici di tutti i regolamenti che sono, vi assicuro, molti di voi lo sapranno, assolutamente stringenti. Il fatto sta che in agricoltura si vive una vera e propria anarchia per cui che molto spesso va a svantaggio o pesa soltanto sulle spalle dei lavoratori, dai braccianti dell'ultimo anello della catena e quindi dicevo che non c'è un tipo di approccio tale da poter far percepire l'agricoltura come davvero un nuovo sbocco di occupazione. Credo che le cose siano assolutamente collegate a fronte di una crisi, a fronte di nuove strategie per affrontarla a fronte della necessità di una nuova attenzione verso la sostenibilità e la durabilità delle risorse sciupate dalla crisi e dall'attuale vecchio modello di sviluppo nuove energie per cambiare lo stato di cose non possono che venire da una nuova generazione facendo comprendere l'importanza dell'atto di produrre del cibo vero che è davvero una maniera vorrei dire rivoluzionaria però normale vorrei che fosse normale comprenderla e non male percepirla così una maniera normale di incidere sul territorio di incidere nel cambiamento delle cose perché cibo vero vuol dire davvero rispetto dell'ambiente vuol dire davvero politiche per la salubrità vuol dire davvero politiche di benessere per la comunità per cui la dignità di produrre cibo la dignità che credo molti giovani stanno riscoprendo in tante piccole realtà scommettendoci bisogna essere un po' sfrontati perché in questo periodo lanciarsi in un sogno o sognare sembra essere una cosa da foglio o da dementi però ci sono molti casi di successo e in molti casi ci si riesce in questo contesto che nasce anche l'idea agricola di Libera Terra in cui il protagonismo giovanile più giovani di me ce ne sono diversi è assolutamente un dato conclamato e spiccato sicuramente parte questo progetto da una esigenza che forse può sembrare stranea a quella della pura agricoltura del puro fare impresa agricola viene dalla necessità di restituire di recuperare alla comunità la collettività dei terreni che sono stati confiscati alle mafie il progetto nasce subito dopo l'approvazione di una legge di iniziativa popolare proposta nel 95 e 96 la raccolta di firma avvenne in quegli anni dall'associazione libera con cui si chiedeva sostanzialmente di ritoccare la legge Piola Torre del 1982 introducendo la possibilità di prendere dei beni confiscati e farli diventare occasione di lavoro di sviluppo occasione di socialità occasione di democrazia di giustizia sui territori la legge fu spinta da oltre un milione di firme nel 96 in Acque fu varata finalmente il 7 marzo di quell'anno la numero 109 e grazie a questa legge è stato possibile scrivere anche una nuova pagina dell'antimafia sociale è stato possibile insomma riportare alla comunità ciò che prima la comunità sembrava assolutamente essere alieno e non appartenere prendere in Sicilia ettari ed ettari latifondi di Totorrina di Brusca di Provenzano parlo della Sicilia perché è la prima esperienza ma poi l'esperienza si è trasformata in un vero e proprio modello che si è innestata in Calabria in Campania e anche in Puglia credo anche senza credo anche sicuramente in Piemonte ad esempio prendere questi beni e farli diventare qualcosa di totalmente altro dimostrare che lo Stato vince beh questa probabilmente era l'idea primaria dimostrare che lo Stato esiste che c'è la possibilità di un riscatto della collettività che una presenza fisica anche dei cittadini può in qualche maniera limitare la presenza delle mafie ma probabilmente all'inizio non era ben chiaro il fatto che si innestava anche un'idea di agricoltura nuova un'idea di agricoltura sostenibile che avrebbe dato addirittura massimo valore a quell'impegno di riscatto di quei terreni perché guardate è la cosa più bella che può venire fuori da quei terreni da quei vigneti confiscati qui sul territorio per informazione gestiamo 20 ettari di terreno qui in Contrada Canali dove tra poco sarà attiva una masseria didattica proprio su questi temi anche su questi temi gestiamo circa 35 ettari di vigneto tra Torchiarola e San Pietro Vernotico altri 30 ettari di vigneto o meglio 30 ettari di seminativo confiscati a Buccarella a San Pietro Vernotico tra San Pietro Vernotico e Tuturano la cosa più bella che può venire da questi terreni è la dimostrazione che su questi terreni può nascere e nata una realtà che via via si sta andando sta diventando sempre più solida che dà soprattutto risposte sul territorio dal punto di vista occupazionale diverse decine di lavoratori fissi e stagionali ormai lavorano su questi terreni con noi e successivamente dimostrare anche che da quei terreni si può creare su quei terreni si può creare un nuovo modello di sviluppo e di agricoltura moderna un'agricoltura sostenibile che ha come biologico nel biologico sicuramente il suo cardine perché davvero liberiamoci dalle mafie ma liberiamoci anche dai veleni di cui si è fatto abuso durante gli anni passati di cui purtroppo ancora si fa abuso da quei terreni può venire cibo vero può venire vino vero ormai riconosciuto da tutti da guide ma non fosse altro dai cittadini che mangiano e continuano ad acquistare una seconda volta una terza volta chissà quante volte i nostri prodotti può venire insomma un'idea di sviluppo che può più in generale incidere in termini di innovazione agricola in termini di modernità nei processi culturali di trasformazione in termini anche di presenza sul territorio la sfida credo la sfida di una qualunque azienda agricola moderna oggi non può che essere quella di fare rete anche qui una diversificazione rispetto alle vecchie generazioni oggi non può esistere un'azienda agricola giovane che non sia aperta verso le esperienze di chi sicuramente ha fatto un'esperienza negli anni passati ma anche un'esperienza di rete verso chi in questo momento sta operando col territorio non parlo soltanto di aziende di trasformazione di altri agricoltori cosa assolutamente fondamentale ma parlo anche di associazioni di comunità parlo anche di esperienze non direttamente collegate all'agricoltura e che però possono apportare un contributo di conoscenza e di operatività anche di operatività di idee di iniziative alle aziende agricole non dico nulla di nuovo se parlo di diversificazione non dico nulla di nuovo se parlo del fatto che della necessità cosa un concetto relativamente nuovo di far diventare le imprese agricole anche luogo in cui davvero si fa comunità si fanno iniziative che vanno al di là del fatto agricolo della produzione a sé stante e credo che in questi termini anche come risposta di finanziamenti qualcosa in questi anni si sia fatta e che molti abbiano colto anche l'opportunità per cui aziende agricole che si aprono al territorio che si mettono in rete che utilizzano la rete che ricercano la tipicità è l'eccellenza della tipicità pensando che quella non può che essere quella ricerca e quella biodiversità quella tipicità non può che essere l'unica ricchezza probabilmente che abbiamo biodiversità in termini di prodotti ma anche in termini di paesaggio rurale in termini di possibilità di turismo pensando anche qui che finalmente il cibo può essere interpretato come ricchezza come scambio come cultura come ricchezza scambio cultura che diventa anche partecipazione per noi diventa anche occasione di democrazia occasione di memoria occasione di giustizia per cui tutti questi temi credo poi si riconducano più in generale ad una necessità vera e ritorno al punto che chiudo magari poi riprendiamo alla necessità vera di cambiare paradigma di cambiare visione delle cose non si può uscire o pensare di uscire dalla crisi riproponendo esattamente gli stessi meccanismi arrugginiti che ci hanno portato alla crisi si esce dalla crisi cambiando prospettiva ritornando a delle dimensioni di sobrietà dimensioni territoriali sicuramente più importanti e con un'attenzione importante anche alla pratica dell'agricoltura come pratica a cui naturalmente l'uomo tende e che deve assolutamente preservare per la salubrità comune che non è solo quella ambientale ma è davvero quella della comunità io mi fermerei qui per adesso si un applauso per la salubrità no ok no c'è no c'è poi nella pratica noi siamo quelli che si alzano siamo davvero un'azienda agricola che cerca di affrontare il mare magno della vita agricola locale con uno spirito propositivo diciamo anche forse anche più sostenuto del dovuto certe volte con molto entusiasmo però il confronto con le realtà agricole locali è davvero molto molto duro e molto stringente non è insomma voglio farvi capire che lavorare in agricoltura in questo in questo momento specie in questo momento è davvero una delle cose più difficili che si che si possa fare se a monte c'è un'idea di di giustizia sociale che si redistribuisce lungo la filiera e parlo in particolare la prima cosa che mi viene in mente delle condizioni dei lavoratori in agricoltura non vi racconto nulla di nuovo se vi parlo di nuove forme di caporalato che in realtà non è mai sparito davvero dal territorio era conclamato allora ma oggi comunque continua ad essere più che operativo e comunque parlavo prima di anarchia rurale in cui davvero non esiste una regolamentazione vera mancano molto spesso i controlli per diversi motivi sembra vigere la legge del più forte in cui ognuno se la inventa come gli pare la mattina e chi molto spesso è l'ultimo anello della catena è assolutamente schiacciato ed obberato è una situazione che davvero pesa sia sui piccoli imprenditori che sono assolutamente soli ed isolati molto spesso senza una vera rappresentanza sia sugli operai sui braccianti che sono appunto come ultimo anello della catena quelli che subiscono poi tutto il peso della filiera per cui confrontarsi con queste cose dovrebbe essere oggetto appunto all'ordine del giorno ma del giorno nel senso proprio quotidiano perché non si può pensare di parlare di green economy o di agricoltura senza guardare prima alle condizioni degli agricoltori imprenditori e lavoratori del settore per cui ecco la nostra esperienza purtroppo è anche abbastanza amara dal punto di vista del confronto con le condizioni di altre aziende e del confronto con le condizioni di molti di molti agricoltori volevo chiedere i vostri prodotti di guida a livello locale oppure avete canali anche che vi hanno sbordato in altre zone d'Italia se non se non diciamo anche all'estero sarebbe più naturale forse pensare ad una distribuzione più locale in realtà è una cosa a cui stiamo cercando di arrivare in cui arriveremo spero nei prossimi anni attraverso l'attivazione di reti di agenti per esempio cose comunissime per il vino o attraverso l'attivazione di partnership di botteghe sul territorio e la creazione di piccoli nostri punti vendita in realtà i nostri canali riguardano più livello nazionale per noi è sicuramente una fortuna ma è anche un piccolo cruccio il fatto che la nostra produzione si sposti soprattutto verso il nord vorremmo sicuramente mantenere le vendite lì ma vorremmo che fossero prodotti conosciuti e riconosciuti anche per le storie che raccontano sul territorio mi sembra giusto grazie prego qualcuno no mi sono domani sui seminativi cosa potete fare noi chiaramente abbiamo una programmazione che riguarda non il seminativo in sé ma il prodotto finale che dobbiamo poi confezionare per cui sui seminativi a rotazione vanno valgrano da cui ricaviamo tarallini e friselline tarallini in più con una gamma un po' più ampia con speziati diversamente ceci legumi che poi vanno confezionati in vasetti abbiamo del pomodoro del pomodoro tipico il pomodoro fiaschetto il clone di torre guacetto che trasformiamo in salsa e abbiamo anche del pomodorino del tondo che poi trasformiamo con un metodo tradizionale e cioè inizierà a luglio la lavorazione questi pomodori vengono tagliati a metà vengono messi su delle reti esposti al sole per 36 ore circa poi dipende e poi vengono messi sott'olio anche qui la ricerca di una ricetta tradizionale che in realtà è molto elaborata è soggetta anche a rischi la pioggia per dire una cosa fra le altre però poi ci gratifica con il fatto che il prodotto ha un'alta percezione di tipicità ed anche un'alta percezione qualitativa perché il prodotto è straordinario non ce lo dicono magari l'ho assaggiato per applicare l'agricoltura biologica che vendete come prodotto biologico sì assolutamente ed anche i carciofi che però abbiamo provato a fare in bio per problemi tecnici non superabili abbiamo adesso cerchiamo di fare un'agricoltura integrata più sostenibile però i prodotti il carciofo bio è una bella sfida cioè abbiamo provato per un paio d'anni ma è stato davvero difficile sì più che altro con i roditori ecco questo è il problema perché vedo lì che forse qualcuno ci ha provato in bio difficile una domanda riguardo anche quello che è un po' l'argomento di oggi soluzioni green nel settore dell'agricoltura oggi qui noi siamo chiamati a rispondere ad un grande quesito possono queste soluzioni oggi dare risposte lavorative per il nostro territorio soprattutto punto numero uno punto numero due quali soluzioni possono essere quali soluzioni concrete cioè in che modo possiamo iniziare a pensare di avviare un'attività agricola che si caratterizzi col bio conviene farlo da soli conviene farlo insieme diciamo da questo punto di vista cosa per esempio Libera Terra Puglia come si comporta cosa ci consiglia di fare noi abbiamo cercato di coinvolgere peraltro ecco anche Luce è stato una delle persone che abbiamo interpellato per questo tipo di percorso abbiamo cercato di coinvolgere attori locali del biologico tradotto contadini che avevano voglia di fare un percorso diverso io credo che questo percorso debba essere fortemente incentivato almeno al proprio inizio con non con risorse incredibili ma con risorse ben mirate la nostra proposta era quella di intanto di creare un gruppo che volesse quantomeno comprendere cosa significa fare biologico serio con le varietà che andiamo a coltivare di solito all'altro l'altra proposta era quella di sostenere il percorso incentivando o finanziando i costi della conversione c'è un periodo di conversione che è di circa tre anni per passare dal convenzionale al bio in cui il prodotto in conversione in realtà è un prodotto convenzionale a tutti gli effetti ma non viene ancora riconosciuto come prodotto bio per cui sostenere in quel periodo i costi di conversione parlando per esempio parlo per esempio dei costi di iscrizione al biologico per dire delle quote o di altri piccoli incentivi che possono in qualche maniera alleviare chi pensa a questo tipo di esperienza come qualcosa di fattibile pensare di mettere in rete di creare una piccola filiera pensare di creare anche la maniera di un luogo in cui si possano scambiare informazioni che molto spesso vengono ritenute come un bene prezioso da tenere per sé per non agevolare altri dovrebbe essere il contrario cercare appunto di sostenere dal punto di vista economico e dal punto di vista delle prospettive del fare rete del creare occasioni anche di scambio i piccoli che ha un ettero che ha un po' di più che vogliono intraprendere questo percorso abbiamo parlato con agricoltori che hanno molto più di un ettero la proposta era magari non ci credete o credete che alcune culture sempre per parlare dei vecchi retaggi o di pratiche consolidate che è molto difficile da scardinare credete che attraverso una cultura biologica voi perderete di produzione perderete di qualità o altro allora scommettete un ettero fra i vostri 30 proviamo a fare questo tipo di percorso siete incentivati avete le spese pressoché pagate alla fine un ettero su 30 è poca cosa però intanto vi fate un'idea e se poi quell'idea vi piace e se poi vedete che c'è la possibilità di creare anche ascoltando sempre a monte il mercato non inventandosi qualcosa che poi si ha difficoltà a vendere di creare un gruppo allora benvenga facciamo anzi sistema e rispondiamo anche a eventuali richieste di mercato che altri in questo momento non riescano a soddisfare io credo che questo tipo di approccio non sia un approccio totalmente fuori dalla ragionevolezza è un approccio graduale non vogliamo che gli agricoltori da un momento all'altro decidano di fare questo passo specie quelli che magari hanno più resistenza di carattere culturale ma vogliamo invece che vengano accompagnati che vengano messi insieme che gli si dia una prospettiva di futuro cosa che appunto manca molto spesso a chi è ormai disilluso da tempo io volevo dire qualcosa a livello personale io vengo da un settore diverso dell'agricoltura e un settore come tutti gli altri in crisi e quindi devo rimettermi in gioco mio padre dispone di terreni che vanno alla deriva si spendono soldi per tenerli in vita ma senza guadagnare un centesimo effettivamente questa potrebbe essere una buona opportunità però servirebbe qualcuno che come in questo caso penso che potreste essere un punto di riferimento perché non abbiamo proprio la cultura di come si porta avanti questo tipo di produzione possiamo utilizzare diciamo i vostri canali magari chiedendo consigli proprio su come da dove partire le basi perché alla fine insomma si parte da zero nel vero senso della parola come appunto ho sentito prima la conversione dei terreni perché venivano trattati in modo tradizionale e quindi bisogna ecco no concretamente di cose se ne possono fare davvero diverse io parlavo di quella di quella idea perché è quell'idea che avevamo in qualche modo proposto a chi appunto poteva avere anche un certo tipo di ruolo per poter essere sicuramente più credibile di uno che magari non si conosce in giro e diciamo parla parla per sé a un certo punto per cui quel tipo di percorso era un percorso secondo me fattibile che avrebbe potuto dare che può dare se lo si ripropone un frutto sicuramente per quanto riguarda la nostra disponibilità noi non abbiamo assolutamente problemi ad incontrarci a ragionare con gli agronomi a capire di che terreni si tratta quali possono essere le potenzialità cosa si può fare anche insieme eventualmente stando il fatto che noi non è che promettiamo canali commerciali noi stiamo comunque attenti a quello che ci si chiede dal punto di vista del mercato e cerchiamo di coniugare di creare un'armonia fra l'esigenza di qualità di tipicità di territorialità con esigenza del mercato che chiaramente hanno altri ritmi e spesso anche altre visioni per cui si benvenga noi siamo qui in Vico de Cantelmo di fronte agli scavi aperti tutti i giorni per cui volentieri poi ci possiamo molto grazie grazie se qualcuno vuole fare una domanda vorrei capire meglio da come io vorrei un passaggio che stava dicendo anche se il signore io non lo conosco ciao io sono Massimo ciao Massimo perché io sono un giardiniere ovviamente capisco un poco però la gente è molto diciamo delusa perché insomma è vero quello che dice lei perché bisogna attivare un circuito propositivo però la gente insomma è stufa è stenta ad andare avanti proprio per il fatto che amiamo la terra e quindi facciamo il sacrificio poi ha denunciato anche il fatto che siamo ultimi invece a mio parere dovremmo essere i primi certo e questo è non ho niente da aggiungere perfetto speriamo che come dire si incominci no perché la gente insomma è stufa c'è gente che ama per esempio tanti alberi di vino io conosco non sta producendo più perché ovviamente non conviene neanche raccogliere una certa volta sì ma secondo me è una cosa che ci deve fare le parecchie perché ovviamente la buia dall'albero alimentare è molto molto scena insomma io penso così però non so davvero se si pensa che parlo di mesagna che bisogna aggrapparsi con i denti certe volte per dire conservitalia è davvero un mincavolo non sono un mincavolo però un mincavolo perché è possibile che non ci sia un'iniziativa di promozione e del territorio diversa cioè va bene anzi per fortuna possiamo dire anche questo però penso che abbiamo bisogno di idee nuove abbiamo bisogno di altro io insomma spero che vi invito a farsi venire qualche idea che alla fine non è che ci dobbiamo inventare niente alla fine certo a fronte di una disperazione credo che debba esserci una risposta di futuro io volevo chiederti tu hai detto che comunque non si spende di più anzi si guadagna di più scegliendo bio ho capito male no non ho detto cioè è più dispendioso coltivare allora innanzitutto scusami che differenza c'è io non sono proprio nel ramo dell'agricoltura che differenza c'è tra coltivare diciamo normale tra virgolette e bio e perché non diventa bio quello normale cioè perché non diventa usuale cioè c'è una motivazione perché comunque è più dispendioso è più difficile non la metterei sul più dispendioso a volte può esserlo dipende non è detto credo che la resistenza perché il motivo per cui non si passa al biologico almeno la mia percezione diretta è che innanzitutto c'è la resistenza culturale qua no c'è ma fa ma dove che cosa insomma qual è il risultato finale io ho sempre fatto così per anni trent'anni quarant'anni della mia vita non è che da un momento all'altro dicano domani faccio diversamente ma parliamo solo di pesticidi o anche altre cose poi c'è un metodo culturale totalmente diverso cioè un metodo culturale che gioca molto sulle lavorazioni della terra che gioca molto su un lavoro di prevenzione di copertura delle piante cosa che evidentemente non si fa con l'agricoltura tradizionale in cui normalmente si passa il diserbo una o due volte l'anno si danno gli antigrittogramici una volta ogni tanto e l'agricoltore può fare altro intanto però questo poi mette in discussione la sostenibilità mette in discussione anche la solubrità di quello che mangia alla fine i costi possono essere anche pari se gestiti bene possono essere anche pari i risultati possono essere anche superiori noi da ormai da anni abbiamo a Torcherolo questi 35 ettari di vigneto all'inizio siamo arrivati lì e ci prendevano tutti per per fessi diciamo così per diversi motivi ma perché per diversi motivi ma in particolare poi perché facevamo il volevo fare biologico cosa che lì poi ne sono arrivati altri dopo in questi anni sono arrivati altri però poi se ve lì era totalmente innovativo che dovete fare siete pazzi ma qua non ricavate niente negli anni i nostri vigneti coltivati in bio sono i vigneti che sono messi meglio di tutti gli altri coltivati in convenzionale se volete ci organizziamo andiamo vi faccio anche in questo periodo che c'è un attacco di peronospora su tutto il territorio i nostri sono i meno colpiti degli altri perché perché si lavora con un certo criterio con una certa organizzazione non si fa per caso c'è un agronomo che tutte le mattine non dorme la notte innanzitutto è pagato per non dormire no per dire però comunque si sta attenti si fanno continue lavorazioni probabilmente quest'anno i costi saranno un po' più elevati però non in maniera esagerata e comunque poi lo si compensa a volte non sempre con un maggior margine dei prodotti non è la regola questa dovrebbe essere la regola anche per tutelare per dare maggiore ristorno ai contadini che sono poi specie se fanno biologico anzi se fanno biologico punto i veri custodi del territorio ok credo che abbiamo esaurito le domande grazie al presidente di Libera Terra Puglia passerei immediatamente la parola al presidente di Alcenero e Mielizia il dottor Cavazzoni ci prendiamo l'impegno di fare una passeggiata quando volete ci mettiamo d'accordo nei vigneti di Libera più verso il pomeriggio sì sì più verso il pomeriggio buonasera grazie per l'invito dunque vorrei cominciare un po' anche da dove finisce Alessandro ma vorrei cominciare dai fatti di questi ultimi giorni che riguardano la nostra agricoltura anche se in particolare entrambi fatti di mare agricoltura entrambi provengono dal frio di Venezia Giulia per dare il benavvio alla nuova presidente della regione la quale non ha capito nemmeno che cosa effettivamente che cosa riguarda il primo è un fatto molto grave che è accaduto quattro giorni fa che stai vedendo la vostra associazione noi e un altro centinaio di organizzazioni Slow Food un altro centinaio di organizzazioni nazionali molto attive in questi giorni perché alcuni agricoltori hanno cominciato con tre elementi normativi che abbiamo nel nostro paese a seminare OGM informando che seminavano OGM l'avrete letto sui giornali la cosa è particolarmente grave perché si tratta di un atto noi siamo per tanti motivi contro gli OGM uno dei motivi principali è che il polline di queste piante andrà ad inficiare tutte le piante confinanti e quindi si avranno modifiche che noi non siamo in grado di controllare questo è il punto la pericolosità immediata prima ancora che non relativa alla qualità dei prodotti eccetera però non voglio parlare di OGM voglio dire è un elemento molto grave questo perché sono delle leggi delle normative per cui noi siamo tutti battuti innanzitutto guardate l'OGM è la morte del prodotto agricolo per come voi lo conoscete nel senso che gli OGM possono essere piantati ovunque e il risultato che danno è lo stesso indipendentemente dal tipo di terra e dalle condizioni diciamo microclimatiche di un territorio esagero ma è così cioè il prodotto che ne risulta il prodotto che ne viene fuori è indipendente dalle condizioni climatiche che fanno la storia di un prodotto perché c'è la differenza tra un pomodoro fatto qua e uno fatto nel Rovigotto dai nostri soci non mi viene da ridere parlo sempre male poveretti nel Rovigotto perché sono nella nebbia dieci mesi dell'anno e quindi il pomodoro avrà una condizione organolettica differente la seconda elemento in questa regione di mal agricoltura è venuto fuori ieri sera tardi non so se ne avete avuto notizia ieri l'altro per il latte sì sì per il latte un consorzio di 17 agricoltori fra l'altro il leader di questo consorzio era uno dei leader della Lega Nord sulla battaglia contro l'applicazione delle quote latte che per l'altro ha favorito una marea di latte nero e quindi di agricoltura frodata a proposito di cibo vero in particolare queste persone queste 17 persone hanno utilizzato del mais che doveva essere distrutto perché l'anno scorso è stata una produzione di mais in tutto il nord Italia a causa della siccità piena di afrotossine queste afrotossine si trasferiscono nella mucca nella mucca nel latte quindi c'erano ordinanze precisi di distruggere questo mais non è stato distrutto era il loro mais loro sono molti agricoltori del nord sono allevatori del nord sono allevatori e si coltivano il mais e la soia con cui nutrire i propri animali adesso non la faccio troppo lunga ma c'è in atto uno studio in Inghilterra per togliere il lumine alle mucche perché non serve più siccome le mucche non devono più mangiare il pascolo se si toglie il lumine si velocizza della produzione del latte perché tanto si nutrona soltanto di mais e soia per dirvi come sta andando il cibo è l'idea anche della nostra relazione con gli animali ora questi signori hanno coltivato il loro prodotto non lo hanno distrutto lo hanno dato ai loro animali hanno trovato che c'erano queste afrotocine nel latte compravano latte nei dintorni in particolare in Slovenia essendo loro in friuli lo tagliavano con il loro latte lo vendevano ma in realtà hanno avvelenato per mesi una marea non so quanto una grande quantità di consumatori ora faccio parto con questo esempio per dire che una cosa che è e diventerà sempre più importante relativamente al tema per il quale siamo qui chiamati siamo stati chiamati è l'origine del cibo di cui noi ci nutriamo ma non è soltanto l'origine geografica perché fino a ieri uno diceva latte che viene dal friuli sentiva in mente queste montagne carsiche questi alpeggi dove le mucche andavano a pascolare niente di più irreale naturalmente allora questi signori ci dimostrano insieme questi due fatti accaduti nell'ultima settimana che in realtà c'è un'agricoltura nella quale noi ci nutriamo che è o dannosa o comunque che non ha niente a che fare con l'agricoltura della quale stiamo parlando adesso con l'agricoltura che può portare sviluppo crescita e tutto questo ha molto a che fare con l'idea molto recente molto moderna di fatto di cibo come commodity il cibo come commodity che cos'è voi conoscete la parola significata del termine commodity io lo uso allora commodity le commodity sono è un termine americano che da quando vengono fatte le borse le borse a Chicago le grandi borse merci designano i prodotti come materie prime quelle per cui non ha nessun significato sapere da dove vengono ma valgono per le proteine o per le caratteri scolettative che esprimono quindi un primo prodotto commodity è il grano è il caffè ma per definizione è il petrolio il prodotto commodity chi se ne frega dove proviene il petrolio per fare la benzina quindi per definizione il prodotto commodity è il petrolio ma poi dietro il petrolio è venuto tutti i prodotti il grano tutti i cereali quindi valgono per loro ecco quando un prodotto diventa commodity quindi un pomodoro quando diventa il pomodoro che si mangia su pizza art o sulle pizzerie che sono presenti quelle le pizze come si chiama da sport che ormai fanno i pakistani dappertutto in tutto il mondo da dove proviene il pomodoro che pomodoro è chi l'ha fatto come l'ha fatto pomodoro italiano pomodoro e mesagli pensi che sia pomodoro e mesagli ma assolutamente no certamente no ecco quando un prodotto diventa commodity il prodotto muore 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 perché interrompe completamente il legame fra chi lo produce e chi lo utilizza fra chi lo produce e chi ne fruisce cioè se noi non siamo in grado di ristabilire una relazione molto potente molto forte fra chi produce e chi produce in un certo modo e chi utilizza questo prodotto cioè noi diciamo chi ne fruisce non chi lo consuma siamo molto contrari all'espressione consumare perché come diceva molto bene lui chi consuma distrugge e invece nutrirsi in maniera ambientale come sottofondo io non riuscirò a entrare dentro tutti questi temi perché se no non riusciamo più ma nutrirsi in maniera sostenibile come si dice adesso significa non consumare significa fare parte di un ciclo che consente all'ambiente di recuperare le proprie proprietà le proprie energie vorrei dire una cosa alla signora che ha fatto la domanda prima sull'icoltura biologica l'Egambiente sta uscendo sta uscendo con un volume molto importante sulla terra su questo volume ci sono delle immagini uscirà fra un mese o due ci sono immagini molto significative sulla aridità e infertilità della terra del nostro paese sono impressionanti l'agricoltura chimica attraverso la chimica inaridisce il terreno cioè obbliga il terreno impone al terreno uno sfruttamento tale per cui il terreno non è più in grado fa questo attraverso gli organofosfati attraverso l'azoto con cui viene arricchito si usa questo termine arricchire il terreno tutti questi prodotti vengono dal petrolio per la vostra informazione 100% l'azoto l'urea qualcuno fa l'agricoltore qua? vabbè l'urea hai presente l'urea? si è azoto l'azoto non è l'azoto che proviene dal l'azoto è diciamo componente principale al 90% è l'azoto quell'azoto viene al 100% dal petrolio per poi per tue informazioni le piante quando si viene utilizzato l'urea per esempio per fare il grano che loro fanno in maniera biologica e non utilizzano l'urea ma con cimi quella urea viene utilizzata dal grano al 10% il 90% se ne va in farda quindi con tutte le relative conseguenze e ripeto prodotti dal petrolio quindi non ha un'origine organica assolutamente inorganica bene allora dico l'attività chimica nei terreni ne provoca infertilità perché per il terreno piano piano come si spegne è stata fatta una fotografia uno studio durato 10 anni che pubblica che è impressionante abbiamo interi territori fra l'altro alcuni qui vicino nel metapontino che è una delle terre più ricche che ci sono al mondo le pianure del metapontino avete presente che è il metaponto ce ne sono intere aree completamente inaridite inaridite vuol dire morte predesertiche bene allora dico uno dei temi fondamentali che riguarda il cibo è la relazione fra chi lo fa e chi lo utilizza se si interrompe la relazione se uno non si interessa e non sa e non gli frega niente del dove proviene questo cibo del chi l'ha fatto del come l'ha fatto vorrei anche dire del quando lo ha fatto e in che modo ha operato se le persone a cui non frega niente di questa cosa qua sono le persone che non sono i nostri interlocutori sono le persone per le quali va benissimo andare a mangiare in un Mcdonald ora io non ho niente contro il Mcdonald ho moltissimo contro il Mcdonald ma non ho niente contro il Mcdonald però voglio far sapere che negli Stati Uniti e qui c'è un bellissimo libro di Safran Foer che vi consiglio a tutti leggere perché è un'opera d'arte lui comincia a occuparsi di carne si chiama se niente importa ve lo consiglio perché è magnifico lui comincia a occuparsi di cibo specialmente perché gli nasce un figlio di carne si occupa di carne gli nasce un figlio gli dice vorrei sapere dove proviene la carne che nelle pappine gli omogenizzati in continuazione gli diamo e apre un film una pellicola sulla carne tremenda che noi conosciamo molto bene la carne che viene utilizzata a Mcdonald è fatta in grande misura in allevamenti dove in allevamenti mediamente di 1500-2000 capi gli animali che non escono mai dalle stalle che hanno un ciclo di vita velocizzato del doppio velocizzato del doppio vuol dire che se un animale arriva adulto in sei mesi oppure un pollo diventa adulto parliamo dei poli di McDonald di quelli che diventa adulti in tre mesi e mezzo lo diventa in questo caso in due mesi tutti questi allevamenti sono sedati con antibiotico in grande quantità perché se non fossero gli animali si trasmetterebbero fra loro le patologie ma siccome vivranno molto poco prima che le patologie si sviluppino l'antibiotico tiene fermo fermo tutto buona parte degli allevamenti americani che utilizzano McDonald sono allevamenti clonati voi sapete che c'è la clonazione ma in Italia lo fa a ricevere Cremonini anche in Italia si in Italia lo fa a ricevere Cremonini e non sono clonati non andiamo mica tanto lontano da questi allevamenti dopo vengono su Cremonini se vuoi però ti volevo arrivare a questo sono allevamenti clonati allora la clonazione che da noi è vietata in Europa ma in America non è vietata non soltanto in America non è vietata non è meno è non è meno obbligatorio negli Stati Uniti a portare in etichetta che la carne viene da un rimane clonato perché perché la Drug Food Administration ha studiato le due carni la carne allevata normalmente e quella da un rimane clonato voi sapete cosa dire clonato quindi che viene che viene allevato attraverso una clonazione da un unico ceppo quindi è una cosa per cui la Chiesa per esempio la vede abbastanza male ecco questa perpetuazione l'animale clonato vive molto poco ma non frega niente a nessuno ha tutta una serie di disfunzioni a partire dal quarto mese ma non frega niente a nessuno perché in realtà diventa carne come una macchina come una macchina diventa carne entro 90 giorni siccome diventa carne molto presto chi se ne frega di quello che potrebbe succedere pure allora questa piccola fotografia di Cremonini è uguale un po' più piccolo semplicemente noi non abbiamo gli animali clonati però abbiamo le grandi stalle che si nutrono solamente del famoso maestro della famosa soia della quale stavo parlando ecco ora il modello McDonald rappresenta perfettamente il modello industriale industriale quindi industriale della produzione agricola quindi l'approccio industriale alla produzione agricola rappresenta l'approccio industriale alla trasformazione del prodotto agricolo dell'elevamento che cosa vuol dire approccio industriale alla produzione agricola vuol dire che io non lavoro i 5 micchie che mi parla di 5.000 metri di terra di mezzo etto di terra non è questo la quantità che lavora l'agricoltore ma ci sono appezzamenti di terra monocultura ecco la monocultura fa parte sapete cosa vuol dire monocultura no? cioè un unico campo dove c'è un'unica cultura e si ripete per tanti anni in Brasile ci sono delle monoculture di soia grande tre volte nella regione Emilia Romagna un unico campo un unico campo io visitai più di una decina di anni fa un campo di 400 ettari di frago 400 ettari di frago di bifone biologiche anche qui su questo biologico c'era da raccontare era un biologico più grande produttore americano di frago di biologiche e naturalmente aveva dentro tutti i messicani dai 7 ai 77 anni sotto un sole analogo al vostro in agosto pieno campo siccome io conosco meglio lo spagnolo dell'inglese mi sono messo a parlare con loro e guadagnavano un terzo della tariffa obbligatoria ora aria qui sul biologico ci sarebbe da raccontare un po' da dove proviene questo biologico ecco allora abbiamo una coltivazione una modalità un approccio industriale mirato all'agricoltura sempre di più guardate questo non riguarda il nostro paese ma riguarda grandi fette purtroppo della Cina del Sud America del Nord America cioè delle aree che stanno producendo veramente grandi quantità noi siamo grandissimi importatori di soia importiamo il 90% della soia come nutriamo le nostre buche il 90% della soia viene importata il 50% del mais viene importato dall'anno scorso non siamo importatori del 65% di grano per fare la pasta non siamo importatori la cosa non deve stupire in questo caso perché noi siamo anche esportatori di una grandissima quantità di pasta per fortuna il 15% della pasta viene mangiata nel mondo e viene fatta ancora in Italia che è una cosa che ci dà onore credo quindi bisogna la pasta che si mangia nel mondo che è in crescita che si mangia sempre più pasta e sempre meno riso e va bene che sia così perché il grano cresce nell'arido il riso cresce nell'acqua e di acqua ce n'è sempre meno quindi non va male che sia così poi la pasta la facciamo noi e va bene però dico questi sono i livelli della nostra importazione e questo grano questa soia questo maio vengono prodotti con questa modalità industriale nella monocultura non è prevista la rotazione si previste la rotazione con sempre più concimi in realtà c'è una rotazione ma ogni 4-5 anni lui per fare grano un anno per 3 anni deve fare delle altre culture capite questo cosa vuol dire che se lui guadagna subito il grano l'anno dopo deve fare pomodoro cece carciofo che non lo fa perché non è capace di farlo altro che balle il topo e l'auditore non è capace di farlo non può fare grano magari lui guadagna subito il grano ma può farlo solo un anno su 4 questo è biologico perché? perché questo ridà fertilità alla terra e la regola del biologico è mantenere la terra fertile adesso ve la sto facendo molto lunga perché non vorrei arrivare a un'ora tale quanto abbiamo ancora? 10 minuti? no no c'è un limite di sopportazione ce l'abbiamo insomma non voglio farla molto lunga però per dirvi che ha tutta all'agricoltura dominante oggi l'agricoltura e ha il cibo dominante che noi ci siamo abituati come delle scimmie a mangiare scimmie in uno zoo no? mangiare quello che ci viene dato scimmie in uno zoo guardate perché quando facciamo una spesa normale da Carfuro o da Auchan che voi avete qua o in altri supermercati e il fatto che nessuno di noi sappia effettivamente dove provenga come si è fatto quel cibo siamo delle bestie ci siamo trasformati con delle bestie perché in realtà il cibo è una cosa molto importante ci sono due cose che noi ingeriamo che noi mettiamo dentro lo stesso una sono le parole vedete che le parole feriscono potete far bene qualcuno ha presente questo le parole sono cose importanti e poi c'è il cibo il cibo fa bene o fa male fa bene o fa male non è una cosa da poco ma noi ormai ci siamo tutti disabituati ad avere una relazione col cibo ora faccio tutto questo discorso se volete possiamo approfondirlo in altri momenti lui è molto consapevole di questo faccio di questo ragionamento dico questo perché quello che noi stiamo cercando di affermare è il suo contrario il suo contrario è quello che ci può permettere una possibilità di mestiere è quello che ci può permettere una possibilità di futura agricoltura questo quasi più che noi il biologico per noi il biologico è una forma prerequisita di approccio agricoltore che non vuol dire scontata che non vuol dire banale che non vuol dire facile vuol dire prerequisita noi lo troviamo biologico perché ci interessa facciamo parte di quelli che stanno dalla parte che all'ambiente vogliono bene e non quelli che lo distruggono o c'è una differenza non di poco conto perché chi lo distrugge chi apparentemente usa chimica rotta di collo non se ne accorge lui singolarmente ma in realtà sta prendendo dalla terra più di quanto la terra non gli possa dare o dagli allevamenti più di quanto questa biologia non gli possa dare e sta sottraendo e si sta come dire impadronendo di un bene che poi diventerà un costo per tutti cioè l'inquinamento dell'ambiente diventa un costo per tutti qualcuno mi diceva poco fa tu che grazie alla nuova amministrazione brillante che noi abbiamo qui nel parco di nel parco del di Torre Guacento molti volontari stanno raccogliendo ora tutta la plastica che viene raccolta tutto questi sono costi e sono i costi di un inquinamento una terra che diventa arida è una terra che diventa arida per tutti è una terra di cui noi tutti dovremmo occuparci ieri sera arrivando da queste parti sentivo il profumo di quest'aria che noi nella prima padana scusate abbiamo completamente perso completamente perso ed ero gioivo del profumo spesso di questa aria allora sto parlando di cose che si stanno perdendo che poi diventano patologie non mi posso fare un lungo pistolotto è un termine bolognese quello di pistolotto un lungo racconto sui grani ma anche qui purtroppo ho visto una marea di grani a taglia bassa alti 40 cm sono i grani moderni alti 40-50 cm i grani alti 40-50 cm hanno dei glutini il loro glutine è indigeribile al 30% della gente questi sono i dati che stanno andando fuori in realtà la non digeribilità di questi grani parla come numero statistico 6-7% ma noi sappiamo che già molto oltre una forma di allergia di difficoltà nella digestione e nella simulazione di questi grani avete presente tutto il problema degli gilieci tutti quelli che cominciano ad avere problemi nella digeribilità dei grani tutti quelli a taglia bassa sono un risultato dell'efficienza produttiva della rivoluzione verde ecco questo altro tema molto grande noi dobbiamo recuperare un altro tipo di grani sono i grani sono i grani che nutrono veramente sono quelli che ci hanno nutrito per 8000 anni e vale la pena ricordare che il primo farro in Italia si trova in Puglia questo è il motivo per cui noi qui siamo molto attenti si trova ad Altamura il primo farro tracce di farro si trova a Altamura 8000 anni fa e viene dalla Mesopotamia bene allora termino per dire che noi abbiamo una grande possibilità in aggiunta in completamente a quanto diceva Alessandro poco fa abbiamo una grande possibilità a considerando primo il biologico come prerequisito alla nostra operare ma soprattutto lavorando sulla relazione sulla relazione vuol dire che se io faccio una cosa bene buona e fatta bene perché mi sia premiata mi deve essere riconosciuta come faccio a farvele riconoscere ci avete pensato a questo? allora il tema più grande più difficile per noi è il motivo per il quale noi che siamo un migliaio di ricoltori biologici tutti uniti nello stesso marchio che è Arce Nero che ha una lunga storia sul biologico per farlo conoscere tutti questi concetti spendiamo un po' in pubblicità in comunicazione dobbiamo farlo ma non è la strada giusta non è la strada giusta perché le nostre risorse sono sempre mille volte inferiori a quelle di cui vi sarebbe bisogno noi dobbiamo costruire una relazione con il nostro fruttore finale se non costruiamo una relazione con il nostro fruttore finale lui non sarà mai in grado di riconoscere questo sforzo tutto il lavoro che stiamo facendo che cosa significa questo? significa avete presente quando dove andate a fare la spesa? supermercato o un negozio piccolo? alla coppia che è un supermercato che però preserva alcuni valori alcuni di questi valori e cerca di preservarli però diciamo quando una volta adesso chi di voi è una società non c'è quasi nessuno che è una società sono rimasto io però mi ricordo insomma voglio dire quello che ti vende direttamente il prodotto se l'ha fatto lui che non è un commerciante te lo racconta noi dobbiamo fare questo non dobbiamo solo raccontare dobbiamo raccontare una storia diversa e questa storia diversa deve dare un prodotto che effettivamente è diverso sotto due profili due profili uno è quello della relazione cioè io devo instaurare una relazione nuova con te che non ti chiamo consumatore ma che ti chiamo fruttore il secondo profilo guardate è un profilo nuovo è un profilo che noi non possiamo perdere perché il motivo per cui tanta gente piace mangiare un certo tipo di cose che è il divertimento che è il divertimento slow food ha cominciato 15 anni fa a chiamare questa cosa col termine piacere e ancora continua con il termine piacere godimento pochi giorni fa ero a a fare una chiacchierata nonostante questa persona sia stata molto importante manteniamo una relazione cerco di mantenere almeno nei sei mesi con l'ideatore presidente di Italy non so se ne avete mai stato parlato si chiama Farinetti è una persona che oggi fra l'altro aprirà qui a Bari il 30 luglio lo accendiamo aprirà un grande Italy questo per Italy l'avete mai sentito? si scrive eataly che vuol dire mangiare in inglese eat to eat Italy mangiare in Italia lui sta diventando una delle persone più importanti italiane nel mondo mi anticipo nel mondo e mentre mangia quando mangia mangia come un cinghiale insomma gode molto e nel suo mangiare dice per me mangiare è un orgasmo e quindi mangia tanto perché insomma ne approfitta no? però usa questi termini usa questi termini non è che la usa in privato lui la usa in pubblico la usa in televisione la usa in tutti i paesi cioè dice c'è un grande piacere dietro il cibo del resto è sicuro non abbiamo sempre saputo ma dietro il cibo c'è un grande piacere e soprattutto noi italiani abbiamo fatto della cucina più che non della cucina alla francese dell'arte cucinaria mi piace chiamarla cioè della cucina delle mamme a me per esempio qui capita in Puglia che mangia molto bene dalle mamme e dalle mie amiche di una certa età che non nelle adesso a parte mesare qui si mangia bene ma in generale non è che mangio sempre bene in Puglia mangio sempre bene dalle mamme dalle mie amiche e dai miei amici che sono in giro da loro sempre molto bene ecco allora questa arte è un'arte che noi chiamiamo arte cucinaria che è quella della capacità di fare anche con ingredienti apparentemente molto poveri ma superbi e sono ingredienti tipici di questa ragione straordinaria di fare un cibo veramente buono allora e finisco abbiamo due cose uno tema della relazione e il secondo è quello di fare un cibo che diverte ora il cibo che diverte è un cibo che deve innovarsi perché noi non possiamo non considerare che il signor McDonald non abbia fatto una grande innovazione del cibo in realtà ha fatto un cibo industriale che costa pochissimo che dà grande soddisfazione che non fa bene che fa male nel pane McDonald c'è il 17% di zucchero è quello che piace il pane di McDonald c'è il 17% di zucchero la carne è quella che vi ho raccontato adesso lui si metterà a fare la pizza non credo che ci sarà il pomodoro di Mesa sulla pizza McDonald ma magari se è furbo un domani sì perché si sta evolvendo cioè in realtà McDonald continua a fare divertimento col cibo noi non dobbiamo fare come McDonald ma dobbiamo comunque immaginare di fare un cibo diverso un cibo nuovo non può essere soltanto un cibo biologico un po' triste non può essere mai un cibo etico l'etica c'è ma è come il biologico è un prerequisito dobbiamo fare un cibo che diverte vi faccio un esempio di un cibo che diverte avete presente la birra normale quella fatta qua Massafra le birrerie Massafra la birra Peroni la birra sono tutte uguali avete guardato gli ingredienti tutti per risparmiarla come ci hanno detto il grano turco avete guardato c'è il mais dentro la birra non c'è mai stata è una bestemmia voi non guardate gli ingredienti l'etichetta molto male questo non è legambiente allora prossima lezione sarà leggere le etichette noi stiamo uscendo con tutti i prodotti con delle etichette che si chiamano le etichette narranti sono delle pagine alte così che attacchiamo tutti i prodotti dove raccontiamo tutto tutto c'è anche il nome cognome di chi ha fatto il prodotto la foto la foto la foto la mettiamo in alcuni prodotti ma adesso su tutti i prodotti stiamo uscendo con delle etichette che si chiamano etichette narranti che raccontano tutto ora nella birra adesso metto anche la noturco per farla costare di meno c'è l'uppolo il malto e l'acqua il grande fenomeno di cui siamo nato in Piemonte bisogna dargli atto Piemonte è andato avanti molto sul cibo innovativo il grande fenomeno di oggi sono le birre artigianali e ora c'è un birrificio artigianale fra l'altro voi ne avete uno di gente molto brava che è partita un mese fa con la birra biologica che è gruita a Brindisi lo conoscerete loro sono molto bravi questo ragazzotto molto bravo come si chiama Ancona molto bravo è un diffondersi di birrificio artigianale dappertutto i due locali più frequentati a Firenze uno di questi due è un birrificio che si chiama Miele di Castagno io sono apicoltore di professione non lo faccio più ma sono apicoltore che l'ho fatto a 30 anni lui lo sa loro fanno una birra a base di miele di castagno è una cosa inimmaginabile qualche anno fa tutte le loro birre io conosco molto bene i miele di castagno il miele dell'Appennino fra nell'Appennino Tosca e Mediano io vengo da lì portavo le mie api lì conosco molto bene è un miele molto difficile da vendere perché è un miele amaro questo locale è sempre pieno e la base di questa birra per cui viene fatta la concia la fermentazione per esempio la fermentazione del malto viene fatta 3 mesi questo per dire che abbiamo birre oggi di farro di senatore cappelli dei grani antichi più strani birre al camo birre delle più incredibili ecco allora questi birrifici che vendono a 5-6 euro una birra e non a un euro e mezzo è tutta un'altra cosa che stanno nascendo nei posti che apparentemente anche con gente con poca possibilità ma in realtà stanno facendo un grande afflusso stanno sviluppando oltre che tanto mestiere in realtà è un esempio chiaro di cibo che diverte ve ne faccio un altro lui è venuto recentemente a mangiare una pizza a noi di una coppia che è stata considerata uno dei 5 migliori pizzeri d'Italia ha avuto un prezzo con cui noi ci stiamo mettendo insieme con Marceleco perché sono due ragazze molto bravi molto svegli e stanno facendo una pizza soltanto con alcuni grani naturalmente grani antichi nostri quelli che si digeriscono bene a fermentazione naturale o con lievito madre o con una fermentazione si chiama conidrolifo cioè si fa fermentare il lievito del grano quindi senza aggiunta di altri lieviti esterni quindi un prodotto che si digerisce molto bene però per fare un prodotto ci metti 8 10 24 ore cioè deve avere un'organizzazione un sistema eccetera eccetera e il top come si chiama condimento anziché essere il solito prosciutto cotto salsiccia 4 stagioni eccetera sono tutte verdure stagionali stagionali quindi voi dovete una roba molto strana è un cibo molto divertente quando non danno coca cola nel loro locale perché dicono che la coca cola fa male avete presente una pizzeria che non dà la coca cola non è una roba da poco uno dice voglio coca cola ma noi non lo diamo possiamo dare il chinotto diamo un chinotto naturale se no hanno delle birre particolari anche loro artigianali ecco un locale che ha avuto un successo straordinario abbiamo in mente di farne tanti naturalmente è tutto biologico adesso naturalmente non era necessario però diciamo è un bel corollario pensare che quello che mangi sono materie prima e tutto ha un nome il pomodoro che vi ho usato è il pomodoro fiaschetto loro usano il pomodoro fiaschetto e scrivono insomma torre guaccetto perché hanno deciso che quel pomodoro migliore racconta tutta la storia per il pomodoro fiaschetto bene ora questo è un cibo che diverte noi dobbiamo fare cose che divertono e che fanno relazione adesso lo sto facendo troppo lunga però ancora due un esempio importante in relazione molto bello COP Swiss allora tutto il mercato svizzero ora gli svizzeri hanno una caratteristica sono svizzeri e non so se voi capite bene cosa vuol dire però io frequento molto il barese qui nel brindisino c'è una categoria che sono i baresi niente da ridere perché ovunque noi diciamo gli svizzeri sono svizzeri io ero molto piccolo mi ricordo di scritte che gli svizzeri e non me lo sono più cancellato scrivono locale vietato agli italiani e ai cani e quindi io rimango con questa cosa qua sono come quelli che hanno fatto la guerra che gli rimane però ho grande effetto verso gli svizzeri naturalmente noi abbiamo dei soci svizzeri il nostro cioccolato è fatto con del cacao di i nostri soci latinoamericani e viene fatto dall'ultima famiglia svizzera non comprata dalla Nestlé e fa un cioccolato straordinario purtroppo non ve l'ho portato ma ve lo faremo avere attraverso la principale catena di istituzione della svizzera si chiama Cop Suisse loro hanno deciso un mese fa che avrebbero smesso di comprare i prodotti cosiddetti coloniali tè caffè anche le banane tutto quello che buona parla di l'america smettevano di comprare dai canali normali dagli importatori normali ma anche il caffè considerate la principale catena si chiama Cop Suisse di caffè e ne vende molto gli svizzeri sono grandi bevitori di caffè smetti di comprare completamente questo prodotto dai canali normali e lo compra solo dalle cooperative dei produttori fair trade è solo biologico fair trade è il commercio ecosolidale quindi prende una decisione dice non voglio più un prodotto anonimo non voglio più gli importatori i grandi importatori che hanno sede in Olanda che hanno sede a Trieste di caffè non compro più le banane cicchite non compro più le banane d'oro per esempio vuol dire non compro più dalle grandissime multinazionali le banane il tè il caffè il cacao quindi il cioccolato lo zucchero di canna avete presente quanto zucchero vende un sistema che fa il 40% dei consumi svizzera lo compro solo dai piccoli produttori perché ritengo di fare meglio nell'economia mondiale ecco quando dico costruire l'azione a grande livello dico questo COOP dovrebbe fare questa cosa qua ma COOP se non insistiamo nel tempo arriverà a fare questa cosa qua noi dobbiamo determinare delle condizioni per cui la produzione migliore è organizzata perché il tema tu hai fatto una domanda la risposta deve essere organizzata perché quello che stiamo dicendo noi è che noi siamo tanti piccoli che devono mettersi insieme perché se no non vai da nessuna parte l'unico modo per affrontare uno grande è essere tanti piccoli insieme chiaro perché se no l'essere tanti piccoli è molto importante perché il ragionamento che facciamo noi di agricoltura in opposizione all'agricoltura industriale e all'agricoltura artigianale così la chiamiamo la trasformazione rispetto alla trasformazione industriale noi parliamo di quella artigianale non è un problema di dimensione è un problema di modalità produttiva si può fare forse il pomodoro artigianale anche qui da conservitalia a mesagne è un problema di approccio vi rispondo già questi conservitali dicono che questo stabilimento non è locato bene perché devono portare il pomodoro a quel certo di distanza affoggiando perché non lo fanno più qui nel terreno di tua zia è così allora noi che facciamo pomodoro tutto il nostro pomodoro di acenero deriva dal delto del po mi sembra strano ma lì si fa un pomodoro molto particolare perché la terra è torbata cioè sabbia sabbia ricchissima di microalimenti perché era mare fino a un milione di anni fa non lo so ma comunque è terra coltivata molto poco perché era palude è un po' ancora palude quindi è una terra molto ricca molto particolare che dà caratteristiche molto particolari noi facciamo arrivare il nostro pomodoro entro un'ora da quando viene raccolto tu ti immagini se questi signori qua si prendono pomodoro da 250 km sul canio quanto tempo sta avete presente il pomodoro maturo? poi più il pomodoro deve fare un viaggio lungo più il pomodoro deve essere vero perché se è molto maturo allora dico non è è un problema di organizzare la struttura di trasformazione con il territorio che gli può offrire vicino un prontorico che non può più essere solo un pomodoro deve essere quel pomodoro particolare quella caratteristica particolare ora questa è la cosa che noi possiamo fare questa è la cosa sia sul piano agricolo che noi stiamo promuovendo e facendo sia sul piano agricolo sia sul piano della trasformazione quando dicevo un cibo che diverte noi abbiamo portato giù un mese fa 120 persone tutti i nostri buyer clienti eccetera fra gravina e altamura e abbiamo portato a vedere i nostri produttori i nostri ricoltori che fanno grano e ragionare con loro ma soprattutto presso due forni due forni che hanno 250 anni che sono quei forni sotto terra non so se voi qua io non li ho più trovati nell'area salentina vedo nell'arco dei io sono un amante di questi territori ho visto disperdere la cultura del pane molto se non voglio qui non si fa più molto poco pane di grano duro io sono un amante di pane di grano duro insomma lì comunque fra matera e gravina siamo andati a vedere questi forni sotto terra che fanno lo stesso pane secondo me con la stessa gente che ha 200 anni nello stesso modo sicuramente tutti che hanno deciso senza nemmeno valorizzarlo di usare il senatore Cappelli perché ha una resa migliore la gente più contenta eccetera quindi usano un grano per noi il re di tutti i grani che è il senatore Cappelli che non è stato per noi che però è un grano che si produce molto poco e costa parecchio di più ma loro lo usano lo usano come grano normale perché hanno capito che ecco tornare a fare il pane fare il pane al plurale e fare il pane per quel grande significato che ha il pane nella nostra cultura mediterranea beh non è una cosa straordinaria cioè si è perso adesso voi io dico si sta perdendo anche qua nel senso intimo ma in tutto nord Italia il pane fa schifo è mangiabile e infatti il consumo di pane sta calando ha rotto di poco quindi il pane le pizze i gelati tutto questo che viene spacciato come artigianale che ormai è diventato anche quello biologico un sottoprodotto industriale le gelaterie artigianali uno c'è qualcuno di voi che fa il gelatario perché non voglio offendere nessuno no cioè si impara a fare i gelati in sei ore di formazione e non c'è più il prodotto fresco sono tutti aromi sono tutte polveri reidratate eccetera questo è fare il gelato regionale italiano ce l'abbiamo un mondo e stanno nascendo molto velocemente straordinarie gelaterie e guarda caso queste gelaterie chi riesce diventano punti di riferimento anche se costa il doppio il gelato perché è un gelato fatto che parte dalla frutta parte dal latte che non è fatto dalle vacche che mangiano mais e c'è una differenza enorme fra quelle che mangiano mais e quelle che una produce 50 litri l'altra produce 10 lo stesso Italy l'altro giorno mi diceva noi per i nostri latti usiamo soltanto un latte per i nostri gelati usiamo soltanto un latte che produce 10 litri al giorno costa di più me ne frego le caratteristiche sono straordinarie il latte rappresenta il 10% il conto l'aveva fatto rappresenta il 10% del mio presto gelato e posso permettere un prodotto una materia prima che costa parecchio di più ecco quindi voglio dire ci sono mondi straordinari che però bisogna ricostruire non ricostruire perché non è un ritornare indietro e farli in maniera recuperando però che cosa? la nostra straordinaria capacità e qualità non siamo produttori di cose straordinarie ma voi lo sapete bene noi siamo nella regione dove e nessuno questo lo dice che fornisce il 30% di materia prima a tutte le bocche degli italiani solo che fornisce sotto spoglie di altri un po' come era il vino un tempo la Puglia andava a fare il vino piemontese adesso non accade più perché il Piemonte è diventato tutto un vigneto e sono loro che vanno a fare i vini francesi perché cominciamo a farne tanto i vini però voglio dire qui c'è una cultura una qualità che io sospetto molto si vada a perdere nei prossimi decenni perché quando tutti i vecchietti che sono in giro e che sono custodi straordinari di queste campagne di un etero mezzo etero eccetera non ci saranno più ma chi prenderà l'opposto allora è evidente che c'è bisogno di immaginare una modalità di fare riforma queste cose stanno facendo il Piemonte Padana abbiamo lo stesso problema la parte frutticola è ancora gestita a lotti di due o tre etteri ma nessuno ci vive con due o tre etteri nessuno ci vive quindi allora stanno organizzando forme cooperative collettive perché si mettono insieme in dieci e almeno ci vivono in quattro però non è che ci vivi facendo pomodoro per il supermercato perché questo è escluso è escluso noi saremo massacrati siamo massacrati su questo noi dobbiamo fare quel tipo di pomodoro per quel tipo di consumatore che forse va anche al supermercato e se vai in un supermercato a comprare deve andare al supermercato come la Cops Suisse cioè che dice io ho costruito in una relazione con quei produttori pago di più il prodotto però è quel produttore che dà quelle garanzie e quelle caratteristiche quindi quando mangi un cioccolato sai che quel cioccolato è un cioccolato il cui cacao ha protetto la natura in cui è stato prodotto che è una cosa fondamentale e mi invito a comprare il Corriere della Sera di oggi c'ha l'ultima pagina di quel coglione di sega freddo lo conosco bene perché eravamo a scuola insieme e fra l'altro lui fu rapito ai tempi che noi eravamo a scuola insieme è avuto una storia difficile tuttavia l'azienda è un'azienda ed è della mia città e allora non so ha fatto l'ultima pagina del Corriere della Sera ha fatto la sua pubblicità per il nostro caffè il milione del mondo e ha messo da perfetto deficiente una pagina di una coltivazione intensiva di caffè se tu vedi un campo lungo è centinaia di ettari monocultura di caffè che è la bestemmia davanti a Dio ecco lì se c'è Dio che questa mattina sfoglia il giornale lui si è fatto una via diretta per gli inferi è sicuro questo perché in quel campo lì non vive niente non vive niente se non il caffè cioè non c'è un animaletto non c'è un insetto niente un campo totalmente chimico non so se voi avete mai visto per dire uno so i campi di caffè non sono delle piante ora tutto il caffè biologico come tutti i prodotti biologici che producono i nostri agricoltori che stanno diventando un pezzo dell'economia alternativa in latinoamerica non residuale alternativa non residuale alternativa producono sotto i boschi sotto l'ombra dei boschi e producono sotto l'ombra dei boschi che ha due effetti il primo che la qualità è migliore soltanto che ci vuole il fiato per raccontarlo hai capito? cioè sega freddo ha la forza di dire io sono la qualità migliore la seconda bugia la prima che è la qualità migliore la seconda che persegue l'ambiente che il bosco è fondamentale l'ombra del bosco è fondamentale perché dentro ci vivono gli animali tutta la biologia che si sviluppa quella che lui chiama la biodiversità e che lì da una cosa molto concreta noi facciamo fra l'altro lo facciamo con l'Egambiente proprio in campagna la settimana prossima una iniziativa che si chiama da Cocaleros a Comuneros sopra per esempio la nostra cooperativa dell'alto Perù delle Ande con un altro delle Cile loro fanno il nostro zucchero di canna fanno anche lo zucchero di canna della COP infatti c'era anche la COP presente qua loro sono hanno gli stessi campi nord delle Ande nord del Perù ai confini con Lepo Fremio e Bolivia loro sono contadini e a fianco dei contadini che producono la coca producono la coca e guadagnano il doppio si guadagna il doppio a produrre la pianta di coca che non a produrre il cacao e a produrre la canna di zucchero la differenza qual è? è che loro vendono a dei messicani bruttissimi con gli occhiali neri come quelli che avevi detto prima tutti neri gli occhiali neri no, dicevo così occhiali neri tutti neri girano su delle macchine blindate nere ritirano le piante e poi le vanno a trasformare in genere in Guatemala o in Messico pagano cash in dollari pagano doppio rispetto agli altri che invece mettono un anno a ricevere il guadagno dello zucchero che poi lo vendiamo noi quindi lo ricevono da noi e tutto finisce lì allora lui viene qua per dire la nostra invece filiera fa in modo che uno produce lo zucchero poi ogni 10 km c'è un piccolo stabilimento che trasforma la canna in zucchero poi giù in città abbiamo 60 persone che lavorano confezionando noi confezioniamo là il nostro zucchero e quindi in tutto lavorano 500 persone 600 persone poi partono i contelli e dà via un'altra filiera positiva di zucchero biologico e chi lo consuma questa cosa lui viene qua per raccontare questo e viene a Dacciaroli dove è stato ammazzato il sindaco Massallo non so se avete presente in Campania due anni fa fu ucciso un sindaco di una città che si chiama Ciaroli lo facciamo con suo figlio Legambiente Campania questa iniziativa la facciamo lì perché lui viene lì a raccontare che sta convincendo la sua battaglia è convincere i cocaleros a fare canno da zucchero e fare in modo che i suoi produttori di canno da zucchero non facciano coca e questo motivo il primo motivo principale della sua battaglia della sua lotta è che i messicani portano corruzione dappertutto e violenza perché lì che si mette sulla strada anche con una macchina rotta per cambiare la gomma viene fatto fuori è veramente una situazione da Fili Tarantino li vedete Fili Tarantino? ecco è esattamente quello cioè Tarantino in realtà non ha diventato un bel niente lo ha trasformato in maniera ridicola anche a me piace molto che ce ne do sopra però in realtà è roba quotidiana allora lui sta facendo questa battaglia dice cavolo noi siamo in un paese che è il paese più corrotto il Perù è il paese più corrotto della Latina America non conosce il nostro ma insomma ci troveremo non c'è stato confronto avremo da intercambiare delle cose dice noi siamo il paese più corrotto viene corrotto dalla cocaina noi invece facciamo un'agricoltura di qualità che dà sviluppo e prospettiva ai figli perché poi il fatto che loro facciano fabbrichette e trasformazione significa che i figli dei loro campesino potranno andare in città e lavorare non so se mi spiega studiare fare università cioè produrre sviluppo adesso è finito che se no vado un po' troppo però insomma questo era un po' il quadro che volevo dire sono le due cose principali costruire la relazione e fare un cibo che diverte naturalmente il tutto è una modalità artigiana perché abbia successo una modalità artigiana bisogna essere organizzati bisogna vincere un grande vincere e guardare in maniera diversa non è soltanto fare cooperazione chi riduce tutto questo alla parola solo cooperativa è troppo poco non è solo questo non è più solo questo non sono le vecchie cooperative che facciamo noi delle due lui è portatore di un esempio di una nuova forma cooperativa certo che si deve cooperare devi collaborare e lavorare in maniera diversa queste sono le chiave nostre innanzitutto complimenti condivido gran parte di quello che ha detto però vorrei tornare su una cosa che ha detto all'inizio riguardo gli OGM ovviamente non potevo rimanere è un tema a me caro per quanto riguarda gli OGM lei parlava del problema del polline allora quello è l'ultimo dei problemi perché è stato risolto in quanto andando a trasformare i cloroplasti non c'è più il problema perché il polline è la parte maschile e la parte maschile non ha né cloroplasti né misocontri quindi quello sarebbe l'ultimo problema quindi non è più fertile non è in grado di entrare in contatto sì perché uno ha modificato il genoma dei mitocontri o dei cloroplasti e il polline che eventualmente potrebbe fuoriuscire non contiene più il gene modificato perché non ha né cloroplasti né mitocontri cioè noi ereditiamo dalla madre i mitocontri così la pianta eredita i mitocontri e i cloroplasti dalla madre non dal polline che è maschile però secondo me il problema sono le multinazionali che stanno usando la scienza per per fare ovviamente denaro perché vendendo poi semi ad alto costo però non dobbiamo dimenticarci che gli OGM noi dovremmo sfruttarli proprio perché sono una risorsa anche per l'agricoltura che fa ad esempio Libera se ad esempio Ora Libera investisse in ricerca e i campani siciliani usassero i fondi per fare ad esempio il pomodoro con i geni di resistenza all'aperenosporo perché Libera non deve più coltivare quella pianta che gli permetterebbe di eliminare la malattia alla radice quindi cioè pensiamo un po' alle potenzialità anche degli OGM che ovviamente devono essere testate le piante non dimentichiamoci che le varietà che usiamo oggi sono ottenute dall'uomo non sono naturali cioè l'uomo le ottiene con gli ultravioletti con gli agenti mutagini che sono consentiti dalla legge andando per esempio a inserire nel genoma delle piante il il gene di resistenza per dire alla perenospora che magari i pomodori antichi avevano il genoma di quelle piante non ce l'abbiamo sono i progenitori selvatici quindi io penso che le potenzialità degli OGM non dobbiamo dimenticare sostanzialmente e vorrei capire come voi la pensaste su questo sono altre casomai così altre considerazioni siccome abbiamo parlato di etichette si era fatto per un certo per un certo periodo diciamo si sono fatti i passi avanti anche a livello legislativo sulle etichette poi però nella realtà pratica ci ritroviamo ancora etichette provenienza d'Italia e basta cioè voglio dire queste sono le no scusi non le etichette magari sulle dove c'è frutta e verdura certo sulle etichette forse c'è un po' più di informazione anche se poi si va a verificare se sono vere quelle informazioni oppure no quindi mi chiedo è lo sforzo diciamo appunto dell'imprenditoria anche verde anche green poi a livello politico si traduce cioè a livello di legislazione cioè avete trovato comunque una strada una via maestra da farvi ascoltare anche a livello legislativo oppure no vabbè lo so che è una domanda ci sono c'è con questo nuovo governo almeno un'attenzione particolare è partito col piede giusto la ministra oppure no allora rispondo prima a lei se non le dispiace rispondo prima guardi allora sul nuovo governo non posso ancora dire nulla con la nuova ministra non ho ancora idea devo dire questo però purtroppo le grandi normative sono determinate dall'approccio diciamo europeo approccio indicazioni informazioni direttive europee su queste noi siamo sempre perdenti avete visto l'ultima questione dell'olio no cioè l'olio del bricchino noi siamo sempre perdenti io sono stato per più di 10 anni a Bruxelles a rappresentare gli apicoltori europei e la battaglia si vedeva giorno per giorno come noi la perdavamo cioè l'industria era molto d'accordo che venissero dati dei soldi all'agricoltura perché così venivano tacitati i contadini e le loro organizzazioni che non commento in realtà noi abbiamo cominciato a perdere perché sono interessi potentissimi chi è stato più forte a difendere i consumatori sono state le associazioni dei consumatori il fatto che noi non siamo che i prodotti UGM possano entrare ancora non essere coltivati coltivati in Europa è grazie ai consumatori il fatto che il fatto che che ci siano che siano riportati in alcune etichette nel caso della carne c'è l'obbligatorietà o della frutta del paese d'origine o del miele che ottenemmo noi o sono tre prodotti frutta carne e miele non tutti dove c'è l'obbligatorietà del paese d'origine fra l'altro paese mica tanto perché nella carne c'è il paese negli altri c'è l'origine comunitaria o non comunitaria perché dentro la comunità siamo tutti uguali quindi sono in questo momento abbastanza ancora pessimista sul fatto che noi possiamo cambiare bisogna che noi adottiamo delle etichette volontarie che ci sono per me che sono le etichette dove noi raccontiamo le cose in realtà la battaglia sulle etichette non può fermarsi deve continuare ma c'è una forte tendenza da parte dell'industria ad appiattire tutto al massimo tu puoi dire pomodoro di mesagne ma bisogna stare molto attento perché il problema è quindi noi lo dobbiamo superare attraverso le organizzazioni civili guardi io mi sono accorti di questo quindi situazioni come lega ambiente riconosciute che hanno un ruolo organizzazioni come slow food possono aiutarci a venire fuori da questa poi dobbiamo continuare a far battaglia non so se lei ha seguito la questione dell'olio non è ancora vinta questo dell'olio si farà confezionato ma sa qual è il punto il punto anglosassono la visione anglosassono è dove si fa il maggior valore aggiunto tutti noi rimaniamo da contadini a essere fatti allora se si scopre che il maggior valore aggiunto è una bottiglia d'olio non è il paese d'origine ma in quello della sua trasformazione cioè l'olio trasformazione confezionamento allora può essere il territorio di confezionamento la loro modalità di ragionamento è questa del resto dicono voi che vendete i vestiti italiani come fate in Italia quel cotone dove viene quella lana dove viene noi rimaniamo così e diciamo il cotone verrà da latino america la lana viene da da retenuti benetton in argentina e allora vedete nello stesso modo come voi avete realizzato il valore aggiunto in un abito armani o in una camicia di uno chiunque e la materia privata e loro nello stesso modo quindi noi ci troviamo a combattere con questa visione che è quella degli anglosassoni e lì Adriano l'imperatore ci aveva visto bene perché lui aveva unito tutto il mondo poi arrivato diciamo a un certo punto a nord di Londra aveva tirato su un muro perché diceva qui i ragazzi sono così barbari che qui ci fermiamo no? in realtà abbiamo una visione di questa cosa completamente diversa non a caso per loro il cibo è veramente commodity loro il cibo lo stanno cominciando a scoprire adesso la nostra battaglia è proprio convertire loro convertire loro quindi io ho una grande fiducia in realtà sui prodotti che riescono a venire fuori attraverso dal basso diciamo così anche sull'etichetta che posso essere raccontata dal basso il che non significa un'etichetta etica io sono molto contrario all'utilizzo di questo termine per vendere per commercializzare in realtà noi dobbiamo contare sul fatto che è buono il prodotto è fatto bene che è buono e che poi fa divertire cioè ti piace ti deve piacere ti deve coinvolgere dopodiché abbiamo tanti altri elementi cioè loro sono per esempio quanti ragazzi accogliete quest'anno 400 500 ecco il fatto che le aziende agricole siano aperte ma aperte veramente non nel senso turistico mercantile aperte per trasparenza per amicizia ecco questo è un'altra cosa fondamentale andate a chiedere a una fabbrica di Cremonini di essere sempre aperta è aperta il sabato mattina che vi fa vedere le mucche contenti lì in giro e poi basta perché lui è un macello quindi la nostra differenza deve essere questa qui e in questo noi dobbiamo ricostruire una relazione con i consumatori quindi non con il mercato con quelli che noi chiamiamo i fruttori va ricostruita una modalità al di fuori di questa non abbiamo futuro cioè se noi continuiamo a mangiare la pizza col pomodoro qualunque non abbiamo futuro non abbiamo futuro noi dobbiamo sapere come l'ha fatto e poi anche chi l'ha fatto lui diceva prima il caporolato eccetera ora io mi aspetto che il pomodoro che farai tu non sia fatto con il caporolato e gli schiavi neri me ne immagino che non sarà fatto così deve essere certo che non è fatto così e poi dobbiamo convincere qualcuno come la Coop Suisse a fare una scelta per esempio Coop dice che il suo pomodoro quello confezionato Coop proviene solo da aree del nocerino dove loro controllano che non ci siano tutti quelli che lavorano io ci credo vanno a fare i controlli ci credo ecco noi dobbiamo fare la cosa un po' meglio secondo me un po' più però questa è la cosa che va fatta allora tu fai un pomodoro diverso dove il primo motivo per cui lo vendi è che è buono perché se il pomodoro fatto eticamente non è buono siamo rovinati ecco penso questo quindi dobbiamo lavorare con pezzi della società civile legambiente per esempio è un soggetto importante e spero che legambiente possa coinvolgersi ancora di più concretamente proporremo delle proposte legambiente nazionale per fare degli uffici di sviluppo nel Mediterraneo proprio fare insieme uffici di sviluppo nel Mediterraneo e cominceremo dalla Calabria mi piacerebbe cominciare però cominceremo dalla Calabria tanto siamo sempre c'è la strada qua no? siamo sempre vicini senti io ti dico il mio parere personale io sono capisco molto bene la razza della tua no 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 ma ho capito molto bene allora il primo motivo per il quale io sono contrario l'OGM è lo stesso tuo perché concentra le mani di pochi un potere enorme e anche io sono contrarissimo a chi brevetta a chi brevetta in generale la vita adesso per fortuna hanno impedito di brevettare il DNA umano perché hai capito ah no ma e questo stava arrivando all'industria farmaceutica mondiale e certo allora esattamente come stanno brevettando tutte le piante latinoamericane ma brevettono tutte le piante latinoamericane ma come? ma le brevettono da chi? si impadroniscono certo si impadroniscono dei loro principi siccome scoprono danno un nome al principio attivo che è conosciuto da dieci migliaia di anni loro lo brevettono perché lo chiamano lo brevettano lo identificano con una formula chimica e lo brevettano ecco questo è abominevole ora noi siamo invece sostenitori che i contadini insieme al loro grano eccetera eccetera insomma di tutto un altro venendo alla questione che dici tu io personalmente sul fatto che noi inseriamo un gene animale a uno vegetale io questa cosa la vivo molto male sono ignorante la mia non è una formazione scientifica però l'incrocio non è proprio la stessa cosa perché sono due ordini diversi poi forse li vediamo ancora noi diversi non sono poi tanto diversi però la mia preoccupazione è una precauzione allora se noi siamo così da milioni di anni ci sarà un motivo no? cioè io che sto scoprendo recentemente perché i grani a stelo alto hanno certi il glutine dei grani a stelo alto che erano quelli che erano qua fino a 50 anni fa dappertutto hanno certe caratteristiche ma anche su i grani teneri su del nord e quelli invece a stelo corto ne hanno delle altre completamente diverse però producono molti più lui mi diceva oggi abbiamo prodotto 18 quintali etero cassa ma 18 quintali etero non è mica molto cioè nel foggiano il grano duro produce 50 55 quintali etero chimico però se voi andate a guardare il suo grano è alto un metro e mezzo se voi andate a guardare il grano che stanno mettendo adesso nel foggiano è alto 45 centimetri vi dico solo questo ricordate che anzi se non lo sapete ve lo dico la lunghezza dello stelo del grano è la stessa lunghezza della radice lo stelo del grano è la stessa lunghezza della radice quindi immaginate voi un grano che prende i suoi nutrienti da un metro e mezzo come il suo senatore ha rifatto il senatore Cappelli come il suo senatore Cappelli che differenza c'è da un grano che prende il suo nutriente da 40 centimetri il suo glutine è completamente diverso ed è quello che fa digerire o non fa digerire quel tipo di grano è chiaro il concetto? oh ragazzi alla fine ritorniamo a capire e a riconoscere questo da un metro e mezzo quei nutrienti sali minerali sono completamente diverse allora dico la scienza è andata sfruttando è andata con l'idea del produrre di più io non sono a contrario a quello che ti ho detto sono molto sensibile al fatto che si possa tornare a produrre in territori aridi o qui ci sono dei drammi alle porte che noi non conosciamo e che facciamo fin di non conoscere il Chad ho degli amici che fanno i cooperatori in Chad loro sono tornati al Chad la settimana scorsa mi hanno detto guardate il Chad è un paese morto morto che non ha nessuna possibilità di recuperare a causa del cambiamento climatico le terre sono in una oh ma questi sono scienziati stanno inaridendo ogni giorno di più non c'è prospettiva e i milioni di popolazioni del Chad continuano ad essere nutriti dalle scarse cose l'unica ora il Chad sta a un piano di emigrazione dal suo paese di centomila persone all'anno e dove vanno queste persone dove vanno queste persone avete presente le persone che scappano scappano perché si muore di fame loro mi dicono nel Chad non c'è nessuna possibilità noi abbiamo abbiamo dei cambiamenti climatici che stanno cambiando la la morfologia di questo pianeta quindi non sono insensibili alle cose che dici tu sono problemi grossi il fatto di poter continuare a coltivare nell'arido però io ho dei problemi molto grossi nella modalità ecco personalmente però capisco quello che dici ci andiamo a bere una birra artigianale o non ce l'avete perché qua a Mesagne manca io propongo un applauso a tutti e due i nostri relatori che ci hanno dato degli spunti veramente importanti vorrei dire tantissime cose però in realtà non dico nulla solo legambiente si vorrà come interlocutore privilegiato con tutti i cittadini di Mesagne che vorranno scoprire meglio oggi abbiamo scoperto tante cose almeno per quanto mi riguarda io ne ho scoperte tante ci poniamo come interlocutori vostri e anche vostri non voglio fare promesse di facciamo questo facciamo quell'altro però lavoriamo secondo me c'è molto su cui poter lavorare insieme tranquillamente e in modo fruttifero quindi io ringrazio tutti vi rinnovo l'appuntamento con il prossimo lunedì qui a Mesagne lunedì prossimo parleremo di turismo l'altro settore economico importante per il nostro territorio ne parleremo insieme al direttore del consorzio di Torre Guaceto Alessandro Ciccolella e con doveva venire Sebastiano Venneri presidente di Vivi l'Italia però purtroppo ha avuto degli impegni a Lampedusa dei convegni a Lampedusa e verrà anche il presidente no il direttore della riserva di Torre Guaceto Mauritesi di Porto Cesareo Maurizio Manna e ci parleranno del turismo e del turismo sostenibile e turismo buono grazie a tutti al lunedì grazie a tutti 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 grazie a tutti